buongiorno a tutti voi e bentornati in questo video vi presentiamo una morsa è una morsa che può essere usata per modellismo per l'orificeria la usano gli orologiai e per chi e per chi fa lavori di precisione anche per creare plastici per lavorare materiali dei più vari dal legno resine plastiche lamierini metalli si può stringere molto quindi può contenere può serrare oggetti molto piccoli oppure si può aprire completamente per inserire oggetti di maggiori dimensioni si può utilizzare su varie parti c'è la parte più grande orizzontale oppure anche verticalmente dove vediamo che ci sono delle losange che vanno a degli incasti che permettono di inserire gli oggetti quindi possiamo usarla sia nei piccoli incastrini permettono di serrare bene gli oggetti quindi può essere usata sia orizzontalmente che verticalmente grazie per aver visto questo video buona giornata